per tutti gli amici di bush hop questa scrivania che mi è arrivata ieri l'ho pagata 100 non mi ricordo intorno a 170 150 potrebbe essere scrivania ad altezza regolabile l'ho appena montata ci si impiega 15 20 minuti circa e questo è il risultato finale allora adesso siamo altezza 62 centimetri minima vado su voilà arriva fino da un minimo di 62 centimetri a un massimo di 125 se non sbaglio è veramente bella veramente veramente bella che dire quando tutto giù c'è anche la possibilità di memorizzare diverse posizioni grazie bush hop e in più il rumore proprio inesistente sentire proprio un leggerissimo un leggerissimo rumore ma proprio non si sente neanche e grazie ancora bush hop grazie angelo grazie a tutti i ragazzi che aiutano angelo quotidianamente e alla prossima ciao 1 2 Grazie a tutti.